Ciao a tutti, oggi prepareremo il mogaccino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono latte intero, caffè espresso, cioccolato fondente e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente ed azionare il bimbi per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere 100 grammi di latte ed azionare il bimbi per 4 minuti, 60 gradi, velocità 3. Versare nelle tazze. Aggiungere il caffè espresso. Abbiamo lavato e asciugato il boccale. Adesso posizionare la farfalla sulle lame. mettere lo zucchero a velo, il latte rimasto ed accionare il bimbi per 6 minuti, 80 gradi, velocità 4. rimuovere la farfalla, versare nelle tazze e servire. Mocaccino! Grazie e alla prossima ricetta! Mocaccino! 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 Grazie a tutti.